ho già paura comunque barbara sullo stretto allora ito martina ma era un solo anche sazza anche se ragamo girelli ma in realtà anche io io rosico da paura girelli è la detta la musica ma più spampo reggaeton adesso andiamo al periodo di reggaeton si poi abbiamo i periodi e c'è il momento è stato il momento sanremo poi c'è il momento è chiaro vabbè kree kree è un personaggio direlli c'è veramente kree tuya è impossibile raga me lo giuro sempre kree c'è incredibile e kree gamma dai anche se ultimamente devo dire che che lei è bella simpatico si però sei gamma dai nel complesso gamma la più serie dura io perché mi piace come mi vesto grazie